Alessandra Meloni, Miss Italia 1994. È nata a Cagliari il 2 novembre del 72. Si tratta della seconda cagliaritana a vincere il titolo nella storia del concorso. Prima di lei, nel 63, aveva trionfato Franca dall'olio. Alessandra è riuscita brillantemente a coniugare gli studi universitari con il lavoro di fotomodella, laureandosi in scienze dell'educazione. Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive e, in qualità di Miss Italia, ha inaugurato la sfilata del Columbus Day a New York. Nel 1995 ha partecipato all'edizione di Miss Universo tenutasi in Africa. Nel 2000 viene scritturata per la fiction tv Le ragazze di Miss Italia, di Dino Risi, al fianco di Nadia Bengala ed Arianna David. Nel 2003 le viene affidato un ruolo nella serie televisiva tratta da un romanzo di Enzo Lauretta, I Salmoni del San Lorenzo, per la regia di Ferencandras. Nel 2001 fa parte del cast Domenica in Surai 1. Oggi Alessandra è proprietaria di una catena di boutique a Cagliari.